Chiara, sai cosa facciamo oggi? No, cosa facciamo oggi? Dobbiamo andare a spiare quel puzzacchioncione di Gabri, ragazzi. Ho avviato per un attimo la chat, quindi probabilmente non avrete visto niente, forse solo la mia faccia, chi lo sa, forse... Ah, no, non lo so, non lo so. Fatemi sapere cosa avete visto. Ad ogni modo, adesso ho cancellato la chat, quindi potete vedere. Adesso ci facciamo slash di Chiara, e tipo trasformati in un chicken, comunque in un qualcosa. Io intanto devo sentire cosa c'è, perché ci sono dei rumori in sottofondo d'unisiani che è meglio che voi non sentiate. Allora, Chiara, praticamente, non so se tu hai visto... Rumori illegali. Esatto, esatto. Tu non sai cos'è successo nello scorso episodio. No, cos'è successo. Gabri, praticamente, andiamo anche in game mode creativa. Gabri, praticamente, è completamente impazzito. Chiara, dobbiamo stare attentissimi. A non farci scoprire. A non farci scoprire, esatto. Perché qua, Gabri, potrebbe completamente essere impazzito. Perché, come io ti ripeto, è impazzito anche nello scorso video, ha fatto delle cose pazzesche. Allora, vieni, tippati, tippati. Sì, mi tippo anch'io. Ok, cosa sta facendo adesso? Cosa sta facendo, vedi? Vedi? Infatti, cosa fa? È impazzito. Ops, 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 mi sa che io stavo volando, Chiara. Ma sei serio? No, vabbè, non ti ha visto, vero? Aspetta, facciamo lo slash di bat, perché ci dobbiamo trasformare in un pipistrello, così almeno possiamo volare quanto vogliamo. Aspetta, perché sono davanti a lui. Esatto. Non vorrei che mi vedesse. Ma mi sembra strano che comunque non veda che c'è un pollo in casa sua. Mi sembra completamente strano a due nisiani. Guarda che anche a me parterebbe, tipo, oh, mio Dio, c'è qualcuno che mi sta spiando, anche se ci fosse un pipistrello, veramente, perché non è normale che un pipistrello stia in casa. Ti segua. Beh. Esattamente, cara Chiara. Ma adesso, vediamo un attimo, lui continua con queste ceste, spero che si dia una mossa, perché io non voglio qua averlo continuamente, sempre qui in questa casa di schifo. Ma infatti, poi cosa fa? L'abbiamo già visto, esatto, l'abbiamo già visto nello scorso episodio che era completamente pazzo, che aveva fatto quelle pozioni di invisibilità che non si sa come mai Doniziani le ha fatte, ma, secondo me le ha fatte perché, cioè, capito, vuole comunque... Vuole nasconderci qualcosa, magari. Esatto, esatto. Adesso ha delle librerie in mano, sembra. Chiara, qua mi puzza. Mi puzza. Eh sì, puzza anche a me, però cos'è che sta facendo? Cioè, guarda le ceste e basta. Esatto. C'è qualcosa che non va, secondo me. È come se lui stesse già progettando qualcosa, perché io lo sento in questo modo Doniziani, non lo so, ho questo presentimento, io ho paura di che succeda qualcosa. Ecco, tipo, perché sta facendo... Ma anche perché è sospettoso, guarda. Scusa, esatto, ma cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Perché ha fatto questa cosa? Non so, forse si sta progettando qualcosa, ma già nello scorso video si vedeva che era... completamente impazzito. Non so cosa abbia in mente. Beh, mette carta lì a caso e leggi così. Eh, esatto. Poi fa avanti e indietro. Eh, esatto, e questo è il punto, fa avanti e indietro, mette carta... Ma poi, avete visto? Perché? Perché fa questa cosa per dire? Ma cosa fa? Doniziani? Per dire? Cioè, vedete che è fuori di testa comunque. Io ve l'avevo detto anche nello scorso video, ma secondo me qua ogni video andrà a diventare sempre peggio. Chiara, tu continua a tipparti perché qua è sempre peggio. Sì, sì, possiamo aprire le porte. Eh, sta volando, sta volando. Attenzione, attenzione. Allora, usiamo le litre. Lo ho perso. Usiamo le litre, usiamo le litre, perché così riusciamo a seguirlo. Tanto già siamo in creativa, quindi non sprechiamo i razzetti. Allora, cosa sta facendo? Dove sta andando? Doniziani, non è che ha nascosto qualcosa, vero? Non è che ha nascosto qualcosa, vero? No, eh. Non mi dire. No, spero di no, dai. Io ho visto che ti sei tippata, mi sa che l'hai perso, vero? Eh sì, l'avevo perso, quindi mi sono tippata. Scusa, ma perché mi rispondi mezz'ora dopo, domanda? No, ma sei serio, veramente? Sì, sì, veramente, veramente. Altrimenti non te l'avrei detto. Eh, mannaggia a te. Colpa del maltempo, scusami. No, non è colpa del tuo cervello che non funziona, mi sa. Ah, pure, sì. Eh, anche perché adesso vedo che ti stai concentrando, quindi mi stai rispondendo veloce. Quindi concentrati di più a parlare, piuttosto che di più a fare il gioco o a venire. Sì, ovvio, ovvio. Casomai ti tippi, casomai ti tippi. Allora, cosa sta facendo di nuovo? E poi questa casa cos'è? Cos'è questa casa? Perché questa casa è lontanissima. Sembra una nuova casa. Sembra una nuova casa, esatto. Ci vuole nascondere qualcosa, allora. Casa segreta di Gabri. Ma come? Perché segreta? Come casa segreta? E poi l'ha scritto su quel cartello che non si legge niente, ma fidatevi che c'era scritto così. Casa segreta di Gabri. Ma perché? Perché vuole fare... Ma forse fai pillar. Ok, forse vuole prendere il quarzo. Vabbè, questa potrebbe essere una cosa abbastanza normale, anche se perché c'è il quarzo del nether, segreti, eccetera. Può essere qualcosa di strano, secondo me. Molto sospettoso. Eh, eh. Non lo so. Casa segreta. Esatto, soprattutto la casa segreta. Sospettoso di questo. Che poi, fra l'altro, Duniziani, noi stiamo registrando questo video fin da prima. Noi non stiamo ancora caricando i video su YouTube, perché vogliamo vedere cosa abbia in mente di fare. Eh sì, perché se no poi lui li vede e ci scopre. Esatto, in questi giorni li stiamo praticamente registrando. Non tutti di fila, perché Gabri, nel senso, a volte gli prende il pazzo e gli inizia a fare queste robe. Noi abbiamo visto che gli era preso il pazzo, anche perché quando fa queste cose, lui parla più velocemente. Cioè, nel senso, si comporta proprio in modo strano, come se avesse, comunque, non lo so, dei problemi mentali, per dire. Vabbè, così li ha sempre. No, scherzo, povero Gabri. No, povero Gabri, no, no, no. Che poi, ti ripeto, Chiara, io non so se caricare mai questi video su YouTube, perché è come rovinare l'immagine. Forse dopo che scopriamo, sì. Gli chiediamo a lui se vuole, perché nel caso, se vuole, li carichiamo. Io... Sì, dipende comunque da lui. Esatto, non sei capito niente di quel che hai detto, mannaggia a te. Ma come? Eh, dipende da lui. Eh, dipende da lui, esatto. Comunque... Perché ho detto comunque? Poi, come l'ho detto? Comunque. Allora, no, no, no. Comunque. Concentriamoci. Anche Duny sa, a volte, a certi, non lo so, certe cose. Certi problemi. Poi guarda le tue casse. No, infatti, cosa sta facendo? No, 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 no. Chiara, questa cosa non può essere. Questa cosa, assolutamente no. Non si deve permettere. Perché sta facendo questa cosa? Anche nello scorso video l'ha fatto, mannaggia a lui. Ma veramente? E poi ha preso qualcosa? Eh, chissà, chissà. Io spero di no. No, perché nello scorso video io faccio slash in the sim. E nello scorso video non sembra che abbia preso qualcosa. Cosa fa? Ho visto che mi ho trovato una spada. No, quella spada non la leggere. Ok, ok, ok. Perché ho visto cosa l'ha preso. Cioè, nel senso, cioè, è veramente idiota, comunque, questo Gabri. Sì, infatti. Nel senso, io... Quella cosa doveva prendere, poi, scusa. Ma infatti, c'è, veramente. Allora, mi sono ritippato di nuovo perché l'avevo perso per un attimo. Comunque ho sputtacchiato tutto lo schermo perché... Non lo so qua, quando ho visto la spada quella là ho detto, oddio, non mi dire che ha preso proprio quella spada dove... Perché Duniziani, Duniziani ha anche segreti suoi, eh. E spero che Gabri... Beh, segreti oscuri. Eh, spero che Gabri non li veda questi segreti. Dove è andato di nuovo, mannaggia lui? Ma è dai miei lama. Cosa fa dai tuoi lama? È pazzo, perché sta facendo questa cosa? Vuole rubare i lama? Perché si sta sedendo sui... Ma non è che... È un po' stupido. Stupido, sì, ma è come ho detto nello scorso video, Duniziani, è anche chiaro. Sperti, è come se lui venerasse una sorta di dio lama, capito? Veramente? Sì. Ma che sento, scusa? Non lo so, di dio lama o comunque di un dio, non so se è un dio o un qual... Cioè, comunque un dio... Una divinità? Una divinità, esatto. Una sorta di... Che io, è chiaro, comunque Duniziani non giudichiamo, ognuno può credere in quel che vuole, anche se ha dei suoi dei. Comunque faccia come vuole, però... Allora, è sempre strano parlare di queste cose, ma vabbè. Sempre si può credere in quel che vuole. Allora, Gabri, per esempio, adesso si è fermato e io, anche nello scorso video, l'ho visto che ballava di fronte a dei cartelli. Ma sei serio, veramente? Sì, 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 tipo faceva così, no? Vabbè, che poi non si vede perché io sono un pipistrello. Snowy! Aspetta, scusate, Duniziani, questo ero io che mi arrabbiavo per Snowy, che... A volte... Poi qua ha scritto, amici, sapete dove potrei trovare dei lama? Perché ha scritto questa cosa? Ma che se mi servono? Infatti, come mai? Perché lui... Lui sa che noi siamo di nuovo in esplorazione, Duniziani, gli abbiamo detto che... Dobbiamo... Perché i Duniziani, cioè, a voi piacciono quando andiamo in esplorazione, quindi... Capito? Gli abbiamo detto questa cosa che siamo in esplorazione. Adesso, chiedemogli come mai... Ma aspetta, magari gli dico, tipo, se ne vuole prendere uno dei miei, così vediamo cosa fa. Ok, ok, vai, vai, digli, digli, digli. Mi servono per fare una cosa. Oddio, ho paura, ho paura, ho paura, Duniziani. Cosa hai in mente di fare? Ok, prendi uno dei miei, ok. Ma cosa... Aspetta, 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 facciamo così. Spostiamola in questa stanza, ok, perfetto, ok, perfetto. Ciao, Gabri. Amici. Gabri. Ciao, amici. Dici un po', per cosa ti servono questi... Eh, volevo fare una cosa. Eh, cosa? Eh, una cosa segreta per adesso. Segreta? Ma come, scusa? Sì, è segreta. Eh, cosa... No, ma questa cosa è molto sospetta, Gabri. No, 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 non è sospetta. Ok, noi comunque stiamo in questa magione, no? Come ti avevo detto nel scorso episodio, che adesso la stiamo un po' esplorando, anche se è un po' complicata la magione. Attento, attento, attento. Eh, è vero, sì, mamma mia, questo vindicator, non so come si chiamano, pillager, pillager. Sì, sì, sì. Sì, non moriamo noi, non moriamo. Non ti preoccupare, anche perché poi Duny e Sei Chiara ci sanno fare, no? Tu sai che Duny e Sei Chiara sono proprio combattenti. E quindi, comunque, io sono proprio curioso di vedere cosa farai, Gabri. Va bene, va bene. Infatti, poi magari vi facci vedere. Esatto, ci farai vedere, vero. Va bene, va bene, poi vi faccio vedere. Ok, va bene. Ciao, ciao. A dopo. Ciao. Ok, l'ho spostato. Ok. Allora, allora, Duny Zani, io sono completamente scioccato, perché vedete che ha qualcosa in mente, ma io non, cioè, non so cosa abbia in mente. Lo vedremo in diretta. Lo vedremo in diretta, esatto. Ma non ha preso il lama, perché non ha preso il lama, è deficiente. Eh, forse non ha il guinzaglio, non lo so. Ah, porca miseria. Allora, facciamo, no, non possiamo fare questa cosa, però, perché io avevo in mente di dargli, di givvargli un, allora, facciamo così. Un guinzaglio. Perché lui è completamente fuori, quindi possiamo fare slash give gabriles, Minecraft, com'è che si dice guinzaglio, tipo? Eh, non lo so, in inglese. Cerca, cerca, cerca. Cerco, 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 cerco subito. Cerchiamo qua, mannaggia, mannaggia. Eh, Lead. Ah, Lead, giusto, Lead, Lead, porca miseria, a me che non mi ricordo. Uno. Ok, questo gliel'ha dato il dio lama. Oddio, ha trovato due lama, due lama di un mercante, ha ucciso il mercante. Ma infatti, ok, li ha presi, però, perfetto, molto bene, molto bene. Mannaggia, i lama che lo stanno uccidendo, come, ma, 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 cosa, cosa hai in mente di me? No. Cosa fa? No, 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 raga, ma cosa sta facendo? No, 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 dunque. Ma sono deficienti questi lama? A parte, a parte sì, sono deficienti questi lama, ma, ma non è che lui pensa di essere la divinità dei, 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 dei lama? Perché adesso mi sta rendendo. Oddio, tipo, il dio dei lama, tipo. Esatto. E non ha Mannaggia Lui non ha preso il guinzaglio Che io gli ho dato Adesso gliene do tantissimi Perché mi sa Poi gli dico di buttarli Non vi preoccupate Perché questa qua Però voglio vedere Cosa hai in mente di fare Questo è il dio Che gli sta dando Perché tanto lui È già pazzo Quindi Ha preso il lama Ma infatti Si è fatto amare dai lama Dunisiani Ecco ci abbiamo fatto un taglio Perché purtroppo C'è stato un difetto tecnico In casa mia Ma Quelli che Gabri qua Continua a smanettare Dunisiani Voi sapete con le mani Che fa un sacco di cose strane Oddio Poi si usa Un sacco di oggetti Con le mani Soprattutto Ma che schifo Oggetti grandi e piccoli Non si sa Però a volte No Insomma Benissimo Cosa dici Che c'è Stavo parlando Di questi Di questi leggii Che a lui piacciono i leggii Allora praticamente Comunque io qua Non so che caspita Abbiamo intenzione Perché ha fatto sta cosa Perché Ha fatto l'armor stand L'armor stand Con davanti Il leggio E in parte il lama E il cartello Cosa hai in mente di fare Col cartello Ho paura Perché le ultime volte Oh mio dio Le ultime volte Dunisiani Non vi dico Cosa ha fatto Con i cartelli Quando non eravamo Nel video Non te lo dico Guarda meglio così Tempio per il lama Perché Cosa Ma perché questa cosa Ma poi Ma Sai che non Io sono scioccata Non può costruire cose Così a caso qua In questo mondo Cioè perché Sta facendo Così Cioè Io Chiara Non so Secondo me è completamente Impazzito Allora facciamo Slash TP TP Gabriles Parla bene Chiara Scusami Scusami Non volevo Non volevo Non volevo È certo che non volevi Però concentrati Perché lei Quando fa una cosa Già quando inizia a digitare Il suo cervello Gli muore Esattamente E quindi Ma perché È giusto Dunis È normale Che succeda ciò Perché hai capito Il cervello Non riesce a fare due cose Contemporaneamente Si chiama attenzione selettiva E Se vi piacciono I video di Dunis Che vi insegnano Mamma mia Molto interessante Sì 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 Praticamente Quando questa attenzione selettiva Cosa succede Chiara praticamente Ha un embolo E Cos'è un embolo Un embolo Praticamente Gli muore il cervello E praticamente Ah ecco Sì 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 E praticamente Cosa succede Che Gli si infilano tutte le cose Nel sedere Cosa Sì perché gli muore l'attenzione Perché lei purtroppo Ha un sacco di cose Che cercano di entrare lì Nel sedere Quindi No no io sono scioccata Sì 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 Succede sempre così E mi spiace Pure a Dennis Succede sempre Però non è meglio Vedete qualcosa qua No questa cosa non è vera Oh Chiara Cosa stai dicendo Chiara L'ho appena capito Cosa intendevi Ma io veramente Cioè io Io ho scioccato Dunisiani No Dunisiani Dunisiani Ma cosa sta dicendo Adesso divento come Gabri Che faccio cose Con le mani Con le Le vabbè Stiamo perdere Sta volando via Ancora che vola Oh porca misera Sto Gabri Che veramente Non lo sopporto più Adesso Ma è andata sott'acqua Cos'è che hai detto Scusa È andata sott'acqua Ah è diverso È andata sott'acqua È leggermente diverso Sì in effetti Vabbè Non so perché voglia Però Gabri Adesso spostiamo un attimo Ciao Gabri Ciao amici Allora Gabri Gabri Allora Ditemi ditemi Cosa stai facendo adesso È niente Sto continuando Con la cosa segreta È se un po' Come dire Io Il Dio Lama Mi ha detto Che praticamente Il Dio Lama No cioè io Io lo faccio Sono lo divino Cioè come dire Lo prego il Dio Lama Io a volte Ah capisco Eh sì Praticamente Mi ha detto Che tu sei un po' lento A fare questo templio Cosa? Sì 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 Perché me l'ha detto Il Dio Lama Perché tu non conosci Il Dio Lama Gabri No non l'ho mai sentito Strano Vabbè Comunque Mi sembra strano Comunque Io Io ci parlo sempre Comunque con il Dio Lama Gabri Quindi tu sei sicuro Che non hai mai parlato Con questo Dio Lama? Cioè in realtà Una volta Tipo sentivo Che parlava Ah sì Dove? Eh non lo so Però sentivo Che tipo parlava Cioè mentre stavo giocando Sentivo Ah E che ti diceva Scusami Eh non me lo ricordo Perché è successo Tanto tempo fa Ah ok ok E quindi ti ha Hai sentito La vocazione Che magari ti ha chiamato Questo Dio E quindi adesso stai Perché anche a me Ha detto questo Dio L'ho sentito proprio Nelle orecchie adesso Che mi parlava Tipo però Ha detto Che tu ti devi sbrigare Ha detto che Devi fare in fretta Gabri Perché non c'è più tempo Come se Non so Ci fosse qualcosa Della fine del mondo Io non ho idea Ma Non so Tu cosa dici? Eh non so cosa dire Vabbè comunque Ma tu cosa stai facendo ora? È niente Sto ancora facendo Quella cosa segreta Ah ok Vabbè ok Ok Vabbè Allora ci sentiamo Ciao ti sposto Ciao Va bene a dopo Ciao A dopo Allora Chiara Io non so Io non Allora a parte che Qua ora sentiamo Una malattia mentale Ragazzi Ma infatti Ma scusami Cioè parla con Estremamente ha parlato Con un dio lama Io spero che Stia scherzando Beh lo spero anch'io Sai non è molto normale Se no dovrebbe andare Da un medico Beh direi Beh Ok Io sono sempre meno convinto Di caricare Sti video Su youtube Ragazzi Cioè nel senso Perché qua Non so Allora se li vedete Vuol dire che Non vi dovete preoccupare Ok Perché stiamo registrando Tutto quanto prima Quindi Lui sa già tutto Vuol dire che Probabilmente Non è malato mentale Consapevole E consapevole esatto Però Non lo so Adesso io sinceramente Non ne ho idea Ok Guarda cosa sta facendo Ma infatti È come se stesse facendo Una chiesa All'aperto poi Ma poi Questo lama Cioè Questo che cos'è Il prete Non ho capito io Infatti Il prete che Unisce le persone Al dio lama Tipo Sì tipo Una roba di questo tipo Ma è completamente Fuori di testa ragazzi Cioè nel senso Io mi sto preoccupando Sinceramente per lui Perché non è A me viene da ridere Lo so Lo so Ma cioè tu ti immagini Se sta impazzendo Tipo Cioè E poi dopo Devi andare A prendere A farsi curare Sì Insomma Vabbè Secondo me no Perché comunque Sembrava un po' Sembrava un po' Un po' Strano Comunque la simulazione No Sembrava un po' Che stava simulando Secondo me ci stava solamente Prendendo per il sedere Però diamogli il beneficio Del dubbio Perché Ma infatti Non ti dà mai Allora Esatto Esatto Sì 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 Anche perché poi Dopo una persona Che Cioè diciamo che Le allucinazioni Sono strutturate Vabbè Non entriamo in queste cose Gabri Allora No aspetta un attimo Aspetta un attimo Gabri Ciao Amici Ciao Gabri Parliamo un po' Come Tu hai già visto Questo diorama Vero No Non l'ho mai visto Ok L'hai solo sentito Esatto Ok perfetto Cosa ti diceva Questo dio Non me lo ricordo Ok Perché Praticamente È come se tu Sentissi delle cose Giusto Sì Sentivo che tipo Parlava Però è successo Tanto tempo fa E quante volte Una sola volta Ok vabbè Ok 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 E non ti ricordi Cosa ti stavo dicendo Vero No non mi ricordo Vabbè Ho capito Allora ci sentiamo Ti risposto Ciao ciao Va bene Adoro Allora No Esatto 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 Secondo me Allora O è indemoniato Che poi puoi anche essere Ragazzi Mamma mia Che ho più posseduto Vi immaginate No vabbè Allora faremmo Un sacco di views Cioè Ma che cattivo che sono Dai no Infatti c'è Che schifo che faccio No 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 Cosa fa Cosa Perché sta facendo questa cosa Ma poi Cosa sta facendo Ma ti ricordi Ma ti ricordi Chiara Questa roba Sì Questa roba Sì Mamma mia Tentacolo Oh mio dio All'inizio della serie Vanilla Ragazzi Andate a vedere I primi besoci della Vanilla Che capite Anche questo mondo È un po' posseduto Non vorrei che questo mondo Non vorrei che fosse Per davvero Che succedesse Per davvero Questa cosa Però eh Beh Magari il diorama Che sta facendo tutto questo Ma ti Ti immagini Se per caso Tipo Non lo so Lui ha sentito davvero Questa cosa Perché probabilmente C'è qualcosa in questo mondo E che magari Tipo qualche agra Non lo so Che ha fatto davvero Sentire questa cosa Gabri Perché Cioè Nel senso Capito cosa intendo Sì ho capito Nel senso che questa persona Che ci sta stocolando L'ha sentita lui Gabri Eh Esatto Esatto E magari Non sta impazzendo Ma ha veramente sentito qualcosa Non so Magari gli hanno achiarato Il computer Cosa ne so Potrebbe essere Non so Sinceramente Cioè comunque Allora Diciamo che Ora non voglio Entra nei dettagli Duniziani Ma Diciamo Sono I deliri Sono strutturati No Cioè nel senso Sono più complicate Non entra nei dettagli Comunque Praticamente Anche le allucinazioni Se per questo Cioè nel senso Non funzionano proprio così E guardate Cioè Completamente pazzo Cioè Dal suo comportamento Si vede che c'è qualcosa Che non va E che sta seguendo Infatti Che sta seguendo Una sorta di Di cosa No Di Come di Di sua convinzione Come se fosse effettivamente Un delirio Ma Mi sembra strano Ma vabbè Allora Ok Allora Facciamo così Io direi che per questo video Possa essere tutto Sì infatti Vediamo la prossima volta Cosa fa magari Vediamo la prossima volta Io mi sto preoccupando Per Gabri Cioè ve lo dico Seriamente Infatti ma non è normale No 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 Cioè Io Anche perché Da qualche ho letto Comunque mi sto Vabbè Cioè Vabbè Lasciamo perdere Deniziani Insomma Noi ci sentiamo Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao